ritorniamo di gestione mi sta abbandonando giuro non l'ho fatto apposta tempismo perfetto muori e muori c'è qualcun altro o basta così questi prima non li abbiamo presi perché abbiamo avuto la botta di culo del secolo saltando sopra cazzarola meglio immunizzarsi con un dante entrato in pieno e tu stai lì buono non rompere i coglioni grazie vediamo se lo rifà no non lo rifà viene ad aggrarmi da qua ma non ci pensare nemmeno brutta mignotta fino a quel momento possiamo solo ipotesi ma allora è un vizio ma che cazzo proprio è un è una simpatica abitudine che hanno proprio di schiantarsi così brutta puttana di una perpetua ma anziché venire a menarmi i coglioni con la mazza perché non vai a giocare a briscola al torneo della pro loco attentismo sempre perfetto mori anche qui mi faccio fregare e tac la belle che subiscono anche danno cosa ha troppato? ascia da schiavo orco giuda ho visto la morte in faccia stardo non è caduto oggi non se ne esce oggi proprio non se ne esce che cazzo però onestamente sto dimenticando una cosa che porca di quella puttana c'ho sei braci forse un aiutino me lo posso far dare magari non dò lo spirito viola si ti ho visto che sei sceso e ti faccio anche il culo vieni una freccia una frecciua nel deletano e tutto si risolve ok è sempre bello vedere vedere gente che vola super trappolone ci sono cascato come un pirla venite qua che vi sistemo io venite 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 via 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 venite su non l'ho fatto neanche cosa però funzionata la grande bevo intanto un signore estremamente rassicurante con un'ascia e la telecamera che come al solito bex è una telecamera che come al solito fa un po' il cazzo che vuole è stato bello ok allora oh mi ha risposto anche la fiasca dicevo è palese che sta per succedere qualcosa di brutto qui vieni qua stavo per dire non mi fottete più però ho capito che è impossibile fregarli sti stronzi su venga lei è un figlio di cerbottana ma pure io mi dipendo bene non si preoccupi lo sapevo ce n'era uno qua a fianco mi giocavo il buco del culo su una roba del genere no mi interessa a lui ostardo sembra una bella difesa dal fuoco perchè qua mi stanno aprendo ok non mi ho visto quello perfetto saliamo qui su sto raccimando un bel po' di anime la cosa mi mi rende piuttosto felice c'è qualcuno? si ciao quanti siete? uno e due ok e io faccio così è che mi dovete fottere ogni volta ah no scendi meglio così mi lascio in pace oddio dov'era ah no sto stronzo non ci pensare nemmeno ok intanto sto per morire come un coglione è questo immoscata subito muori io quasi quasi li lascerei perdere ma ho un moto improvviso di coraggio bastardo come fa a parare se non all'oscuro scappa scappa sempre comunque forever and ever due merda sono due corri corri coglione corri perché sono così lento sono io che mi percepisco lento perché non sono neanche in midroll sono in compenso un minchione telecamera di merda che non manchi mai è morto è morto eppure uno ma ciao dovrei tanto dire che quella è una statua ma so per certo che non lo è anzi appunto è anche bello grosso